Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo webinar di Hootsuite, organizzato da Hootsuite. Questo webinar abbiamo circa un'ora, come sempre. Oggi parleremo di Facebook Google Plus per il business, quindi vedremo un pochino, eventualmente poi ci organizzeremo un altro webinar dedicato esclusivamente anche ad altre piattaforme. Per oggi volevo concentrarmi appunto su Facebook e Google Plus, perché sono due piattaforme relativamente simili, anche se ovviamente ognuno ha le proprie peculiarità, le proprie particolarità. Per chi non mi conosce vi do il benvenuto, questi sono webinar organizzati settimanalmente, quindi so che molti di voi in realtà ritornano abbastanza regolarmente ai nostri appuntamenti, è qualcosa che mi fa estremamente piacere perché significa che trovate il contenuto utile, se non altro, ecco, divertente, che in entrambi i casi vanno bene. Per chi invece non mi conoscesse, per chi fosse presente per la prima volta a questi webinar, il mio nome è Chiara Grassilli, sono social media coach di Hootsuite, lavoro nel loro ufficio, nel nostro ufficio di Londra. Potete seguirmi su Twitter se volete collegarvi con me per qualunque ragione, sia per domande, per dubbio, anche semplicemente per salutarmi. Su Twitter il mio username è Utschiara. Vi invito anche a seguire l'account ufficiale di Hootsuite Italia che è Hootsuite IT. Come sempre se avete domande abbiamo due canali durante questo webinar, uno è Twitter dove potete inviarci domande, inviarmi domande dirette sia menzionandomi oppure utilizzando l'hashtag Utsuite Pro e poi ovviamente anche la chat di GoToWebinar che è invece la finestrina che vedete sulla destra del vostro schermo dove vedete anche appunto la possibilità di fare domande. Sì esatto, i nostri webinar sono settimanali, quindi tutte le settimane c'è un webinar per l'orario a quest'ora e sono registrati, quindi se nel caso non ci sentite, non riuscite a partecipare, potete appunto chiedermi la registrazione. Vi chiedo conferma se mi sentite correttamente perché qualcuno mi dice che non mi sente, Davide, Andrea mi dice che non mi sente, quindi vi chiedo conferma se invece la maggior parte di voi riesce a sentire correttamente, quindi perfetto. Eventualmente non so come mai qualcuno forse non mi riesce a sentire. Speriamo che riescano a risolvere. Andiamo subito a iniziare a vedere un po' di che cosa parleremo oggi. L'agenda di oggi è molto semplice apparentemente, facciamo semplicemente un'introduzione a Facebook e un'introduzione a Google+, quindi apparentemente tutto molto semplice. In realtà ovviamente la cosa è più complessa perché per le aziende che iniziano a lavorare sui social media può essere veramente complesso capire quali sono i primi passi da fare. Iniziamo subito con un piccolo questionario perché vorrei chiedervi quanti di voi conoscono già Facebook e quindi che tipo di informazioni vorreste imparare oggi. Se vorreste imparare più informazioni di base su come proprio iniziare i primi passi per iniziare a usare Facebook oppure tattiche avanzate. E vi lancio subito questo brevissimo questionario per capire un pochino di più chi sono le persone che stanno partecipando. Io ovviamente non vi vedo, non vi sento, quindi voglio riuscire a capire un pochino di più di voi e lo faccio attraverso appunto queste domande. Vorrei capire se avete bisogno appunto di informazioni di base per usare Facebook oppure tattiche un pochino più avanzate. Lascio aperto il pool ancora qualche pochi secondi. Perfetto, direi che tra due o tre secondi chiudo il pool. Se volete ancora votare vi basta cliccare sull'opzione che preferite. Mi pare che per ora la maggior parte di voi sia già a conoscenza delle tattiche di base, diciamo delle informazioni di base e si sia orientato, vorrebbe sapere un pochino di più tattiche avanzate per l'uso di Facebook. Quindi vado a chiudere il pool, ovvero il questionario, vi vado a condividere le domande, scusate le risposte. Pare che la stragrande maggioranza di voi abbia bisogno più di tattiche avanzate. Quindi non ci concentriamo su come iniziare a lavorare con Facebook. Andiamo a vedere un pochino di più come ottenere risultati migliori. Torniamo alla presentazione quindi e andiamo a vedere un attimo perché è importante appunto iniziare a usare Facebook, come fare. Quindi innanzitutto perché creare un profilo aziendale. Per chi inizia è importante capire la motivazione perché parlo ancora con molte persone che non capiscono benissimo l'utilità di essere su Facebook, ma in realtà l'utilità di essere sui social. in generale. Il passo successivo è decidere se creare appunto pagina o profilo. Andiamo a vedere anche come decidere chi si occupa della pagina aziendale, quando pubblicare, che cosa pubblicare. Ovviamente, rapidamente vediamo come gestire Facebook con Utsuit e poi appunto una delle tattiche avanzate di cui parlavo prima è come fare un'analisi della concorrenza su Facebook proprio attraverso Utsuit. Intanto iniziamo a vedere perché creare un account aziendale su Facebook. Innanzitutto, diciamo che questi sono un po' motivi che funzionano per tutti i social, nel senso che ovviamente quello che funziona per Facebook a livello di motivi per essere su Facebook più o meno vale anche per gli altri social. E ovviamente la prima ragione è che i nostri clienti sono già lì. Rendiamoci conto che la stragrande maggioranza dei nostri clienti sono in realtà persone normalissime che utilizzano gli strumenti messi a disposizione dalla rete e quindi i social fanno parte a pienissimo titolo, direi, di questa categoria. Quindi i nostri clienti sono già sui social e quindi se noi non ci siamo fondamentalmente stiamo perdendo un'opportunità. Come si dice in inglese, stiamo lasciando dei soldi sul tavolo. Gli inglesi sono sempre molto pragmatici, quindi si parla sempre in termini molto concreti, se non siamo là dove sono i nostri clienti, semplicemente stiamo lasciando dei soldi sul tavolo, ovvero ci stiamo perdendo dell'opportunità. Per evitare anche che qualcuno prenda il nostro nome, questo non succede molto molto di frequente, ma ovviamente può capitare che qualcuno, o diciamo non intenzionalmente, oppure a livello invece molto molto intenzionale, ci voglia magari danneggiare, ecco speriamo che non succeda spessissimo, ma può succedere che appunto qualcuno prenda il nostro nome aziendale su Facebook e quindi cosa succede? Che bisogna aprire una sorta di richiesta a Facebook per riprendere il possesso del nostro nome, visto che è capitato da alcune aziende, è un processo abbastanza complesso. Vi suggerisco di evitarlo in principio e di prendere già il vostro nome. Quando scegliete il nome della vostra pagina, scegliete anche un nome non troppo corto, che non sia troppo banale, ma neanche lunghissimo, anche perché appunto deve essere qualcosa che voi riuscite a condividere velocemente e che faccia anche un po' di branding, ovvero che richiami ovviamente la vostra azienda. Per controllare la comunicazione aziendale, questo ovviamente è un punto chiave di tutti i social, se noi riusciamo a creare noi stessi del contenuto, quindi a decidere essere in controllo per quanto riguarda la comunicazione aziendale, evitiamo che altri lo facciano per noi, quindi evitiamo che ci sia comunicazione fatta da altre persone che possono essere semplicemente giornalisti, blogger, qualunque tipo di fonte che magari va a condividere notizie sulla nostra azienda e noi non abbiamo modo di controllare questa comunicazione. Sui social invece siamo noi che siamo in controllo e quindi ovviamente è un canale assolutamente da privilegiare. per far conoscere la nostra azienda dall'interno. Questo significa che avere dei canali social ci permette di far vedere la parte umana della nostra azienda, quindi anche di far vedere notizie un pochino più intime, se volete, dell'azienda. Ovviamente non andiamo a rivelare tutti i nostri segreti, ma teniamo presente che i nostri clienti in generale apprezzano il fatto di capire chi sono le persone dietro un brand, dietro un'azienda. Proprio perché, come si dice spesso in termini di business, si fanno affari con le persone, non con le aziende. Quindi alla fine si compra sempre da una persona, si fanno affari con persone specifiche, non con un brand, non con un nome. Alla fine ci ritroviamo sempre a relazionarci con una persona. In questo caso, ad esempio, voi non vi state relazionando col nome Utsuit, ma vi state relazionando con me, che ovviamente faccio parte di Utsuit, ma in questo caso sono una persona molto specifica, e quindi ecco, è un modo più umano di relazionarvi con un'azienda. E poi, per ultimo, ma non ultimo, gestire l'attenzione al cliente. Questa è una parte che ovviamente viene fatta un pochino, viene fatta ancora poco in Italia, secondo me, è fare l'attenzione al cliente sui social media, ma va sfruttata, va sfruttata e approfondita, perché fondamentalmente ci fa risparmiare tempo, denaro, riduce quelle che sono le richieste vere all'attenzione al cliente, e quindi chiaramente non eliminiamolo a priori. Pagina o profilo? Questa è una domanda abbastanza scontata, per chi di voi ancora non lo sapesse, immagino che sono pochi, usare un profilo personale per un'azienda è contro i termini d'uso di Facebook. Dato che molti di voi mi hanno detto che appunto vorrebbero avere tattiche avanzate, immagino che questa è un elemento, un'informazione molto di base, ma è bene ripeterla per sicurezza, perché potrebbero chiudervi la pagina, scusate, il profilo, ecco, se lo usate per la vostra azienda, quindi è importante metterci al sicuro, insomma, e creare una pagina che è appunto l'identità corretta da dare a un profilo aziendale. Questo è l'indirizzo al quale potete creare una pagina, ovviamente molto facile, i vantaggi di una pagina sono molteplici, prima di tutto ci dà accesso agli insight, ovvero all'analisi dei dati, e questo è una cosa che si può fare ovviamente tramite Utsuite, ma anche direttamente tramite Facebook ed è importante perché il profilo non ci dà invece dati, quindi non possiamo fare un'analisi dati. E poi da un'immagine ufficiale al brand, ora immaginate in un ambiente di professionisti dove tutti sono bene o male coscienti di quello che è corretto e non corretto nell'ambito dei social media, vedere un'azienda che usa un profilo personale dà proprio un'impressione di poca professionalità anche se molti suggeriscono no, crea un profilo perché poi puoi chiedere amici, puoi chiedere amicizia eccetera eccetera dà semplicemente un'immagine di poca professionalità e quindi ovviamente vogliamo evitarlo. Ci permette di inserire le tab o applicazioni che integrano altre piattaforme quindi si può integrare Pinterest, Instagram, Twitter e tante tante altre app anche fatte da voi quindi potete anche crearvele se siete abbastanza bravi ecco da punto di vista di programmazione potete anche crearvi le vostre app e in fondo e infine permette anche di promuovere la pagina a pagamento so che questo per voi in realtà non dovrebbe stare tra i vantaggi ma tra gli svantaggi però se ci pensiamo è un vantaggio nel senso che possiamo decidere di usare il traffico organico ma se non vogliamo possiamo anche spingere un po' il traffico utilizzando la pubblicità quindi il traffico a pagamento di Facebook e so che molte persone hanno veramente ottenuto grandissimi successi grandissimo successo con la pubblicità su Facebook soprattutto chi vende prodotti fisici quindi appunto magari i prodotti alimentari vinicoli vestiti ecco qualunque cosa che si presti bene a un'immagine perché è molto facile usare la pubblicità di Facebook l'advertisement di Facebook per andare a fare una bella foto e collegare direttamente al nostro sito questo ovviamente ancora non si può non si può sentire non si può gestire da da Hootsuite probabilmente lo lancieremo nei prossimi mesi quindi lo stiamo lo stiamo testando per il momento ma effettivamente ecco è una cosa che va esplorata so che qualcuno non è pienamente d'accordo quindi Giampiero Staff che è qui con noi stamattina dice che le campagne Facebook sono inutili dipende dipende dalle aziende nel senso che ovviamente basarsi solo sulle campagne Facebook non ha senso ma ma perché no ecco in fondo è uno strumento in più che abbiamo se per errore o per o perché non lo sapevamo abbiamo creato una un profilo invece di una pagina possiamo trasformare un profilo in una pagina questa è una cosa che forse non in tanti sanno ma ovviamente come profilo personale abbiamo un limite di 5.000 amici mentre una pagina non ha limite e speriamo ovviamente di avere più di 5.000 follower su una pagina se quindi abbiamo un profilo possiamo usare questo link che vedete e andare a trasformare il nostro profilo in una pagina questo anche se per esempio siete dei liberi professionisti oppure ecco consulenti scrittori artisti eccetera e a un certo punto vi rendete conto che è bene per la vostra immagine avere una pagina perché a un certo punto la vostra immagine diventa di fatto il vostro brand la vostra azienda ecco per così dire e in questo caso vi suggerisco di tenere appunto o di trasformare in una pagina chi si occupa della pagina aziendale questo è un discorso abbastanza ovvio e scontato ma come dico sempre le cose ovvie alla fine sono quelle che per qualche ragione non vengono mai affrontate la gestione di una pagina aziendale così come tutti i social può essere interno o esterna all'azienda e va valutata la cosa quindi so conosco molte aziende che esternalizzano la gestione della pagina soprattutto tramite freelance o agenzie tenete presente che ci sono pro e contro nel fare questa cosa quindi un'agenzia un'agenzia che gestisce 20 clienti 30 clienti potrebbe non mettere la stessa attenzione che voi potreste mettere nel vostro stesso brand nella vostra stessa pagina quindi valutate con attenzione se effettivamente il tempo investito nella gestione di una pagina facebook o di tutti gli altri social è un onere troppo troppo grande e quindi volete esternalizzarlo oppure se effettivamente il vantaggio di gestirlo internamente vale la pena perché lo fate con più cura con più attenzione ci mettete più passione e quindi ovviamente i risultati ovviamente si vedranno se lo gestite internamente ovviamente la cosa più ovvia è che lo lo può gestire il proprietario stesso il proprietario stesso dell'azienda se è una piccola azienda un addetto marketing se siete un'azienda medio grande o un community manager interno oppure anche un tirocinante se avete una persona che sta imparando e che gli volete affidare ma tenete presente che non è da sottovalutare perché ecco non diamolo alla prima persona che capita alla gestione della pagina perché una cattiva comunicazione aziendale può veramente rovinarci la reputazione quando pubblicare prima di tutto facciamo un'analisi di quanto pubblicare cioè quanto spesso pubblicare non ci sono dei limiti quindi non una volta a settimana ecco sicuramente una volta a settimana è troppo poco 20 volte al giorno forse è un po' troppo cerchiamo la nostra via di mezzo tra due estremi ecco nessuno vi verrà a dire avete pubblicato troppo troppo poco ma ecco se state dentro questi limiti ma ovviamente se un cliente arriva sulla vostra pagina e vede che l'ultima pubblicazione risale alla settimana scorsa magari ecco si chiede se voi mettete veramente se l'azienda ha veramente posto importanza nella comunicazione sui social media e d'altro lato se inviate troppe notifiche ai vostri follower vi smettono di seguire quindi cercate un equilibrio tra i due estremi quando pubblicare invece dipende fondamentalmente da quando i vostri follower sono online e qui entriamo un pochino più nello specifico perché non so se molti di voi conoscono questa sezione che è quella di che è quella di diciamo dell'analisi di quando i vostri follower sono online per andare a vedere questa sezione andate nella vostra sezione della pagina appunto dei setting della pagina andate a cercare post e all'interno di post avete questa sezione when your fans are online o quando i vostri fan sono online la cosa è estremamente interessante per voi perché chiaramente questa è una pagina che gestisco chiaramente dipende se il vostro pubblico è nazionale internazionale ovviamente qui subentrano problemi di fuso orario in cui se voi lavorate con 20 paesi in 20 fuso orari diversi diventa un po' complesso capire l'orario ma presupponiamo di lavorare in Europa quindi con un pubblico che più o meno ha gli stessi lo stesso fuso orario con una differenza minima vedete che in generale l'andamento della mia pagina dei follower della mia pagina è questo a mezzanotte poca roba va a calare sempre di più qui sono le 3 scusate qua non si leggono bene gli orari ma queste sono le 3 di notte 3 di notte 6 di notte di mattina e poi dalle 7 8 9 in poi chiaramente c'è un picco perché è il momento in cui la gente è più attiva in Italia succede una cosa strana che le persone apparentemente sono su facebook di più quando sono al lavoro ora non facciamo non facciamo analisi culturali sul perché questo succede però è così quindi sono state provate abbastanza questi dati sono stati provati da diverse da diverse ricerche ovviamente non vale per tutti ma a livello generale i picchi di utilizzo sono in tarda mattinata pranzo dopo pranzo e quindi tenete presente ma utilizzando questa funzione voi andate a vedere quando i vostri specifici follower sono online perché non vogliamo sapere quando tutti gli utenti di facebook sono online ci interessa sapere quando i nostri follower sono online se vogliamo interagire con loro chiaramente quando invece vogliamo raggiungere nuovi follower in questo caso ci andiamo a basare più su statistiche generali perché stiamo raggiungendo un nuovo pubblico chiaramente una cosa da fare a parte quella di osservare di usare gli inside di facebook è anche osservare le reazioni con facebook avete un analytics abbastanza preciso e quindi chiaramente potete andare a vedere quali dei vostri post hanno avuto più successo e se voi fate una piccola potete prendervi qualche giorno di testing quindi di proprio di sperimentazione pubblicate gli orari diversi e andate a vedere quali ottengono più interazione questo è un piccolo test che sicuramente vi porterà un sacco di benefici e poi ovviamente pensate al vostro business se siete una discoteca se avessete un locale o un ristorante che lavora di sera o una discoteca che lavora nel weekend in questo caso andate a spingere di più il vostro contenuto in quei momenti quindi dipende anche dal tipo di business che cosa pubblicare questi sono alcuni spunti che vi do ovviamente non finiscono tutto quello che si può pubblicare su facebook ma sicuramente aumentano un pochino l'interazione fatti interessanti per i nostri potenziali clienti mi piace sempre quando parlo di social media mi piace sempre anche far riferimento alcune regole generali di marketing quindi non so se tutti conoscono questa regola del immaginare che cose i nostri clienti trovano di interessante nella nostra pagina e metterci un po' nei loro panni e chiederci cosa c'è di interessante per me nel seguire questa pagina o un vantaggio o un beneficio nel seguire questa pagina perché se il vostro cliente o potenziale cliente non trova un motivo valido per seguire la vostra pagina indovinate non la segue non c'è nessuna ragione per cui un cliente o un potenziale tale dovrebbe seguirvi se non trova nessun vantaggio nel seguire la vostra pagina e ovviamente seguire una pagina non è che possa portare vantaggi del tipo non è che gli farà avere delle cose grati sicuramente ma parlo di vantaggi ad esempio fagli imparare cose nuove quindi diffondere informazioni interessanti dagli spunti interessanti fargli scoprire cose che non conosceva quindi dare proprio un'informazione che aggiunge valore alla sua esperienza quindi evitiamo di fare pura pubblicità perché in questo non c'è valore aggiunto per il nostro cliente il valore aggiunto avviene quando noi diamo un'informazione utile e di qualità ai nostri clienti e ai nostri potenziali tali e quando dico appunto fatti di interesse per i nostri potenziali clienti articoli educativi relativi al nostro settore e notizie legate al nostro settore o sulla nostra azienda parlo proprio di costruire un contenuto che dia valore aggiunto ai nostri clienti in inglese si dice what's in there for me ovvero che cosa c'è lì per me e questa è la domanda che il cliente inconsciamente si fa tutte le volte che fa un'azione che interagisce con un'azienda cosa c'è lì per me che vantaggio c'è per me nel fare questa azione nel seguire la pagina se la risposta è nessuno chiaramente l'azione sarà quella di non seguire la pagina quindi a quelli che mi chiedono come fare a aumentare l'interazione aumentare i follower ovviamente eliminando quella che è la parte di pubblicità pagamento parlando di traffico organico il consiglio più valido che finora riesco a immaginare è quello di dare valore aggiunto ai nostri utenti faremo a breve tra un mese e pochi giorni faremo un hangout a cui parteciperanno tre esperti di settore che ci spiegheranno come fare ad appassionare i nostri follower sui social media vuol dire che ci spiegheranno un po' di tattiche su come fare a creare un contenuto che sia veramente appassionante per i nostri follower al punto che ci seguono o che continuino a seguirci e interagire di più se già sono in relazione con noi se già ci seguono sui vari social e parleremo non solo di contenuto testuale ma anche visivo perché sono appunto due facce della stessa medaglia contenuto testuale è quello che ci aiuta a posizionarci anche in termini di SEO di ottimizzazione perché ovviamente Google si basa molto sul contenuto testuale ma gli utenti vogliono il contenuto visivo quindi occorre fare contente un po' tutte e due come si dice il detto popolare dare un colpo al cerchio e uno alla botte quindi cercare di tenere contenti sia i motori di ricerca ma ovviamente teniamo presente che il nostro vero focus sono gli utenti mischiare quindi diciamo incorporare contenuto testuale contenuto visivo sui social è sicuramente la chiave per dare valore aggiunto ai nostri utenti creare un'emozione anche perché ovviamente l'immagine crea un'emozione che ha una reazione più forte del testo e come conseguenza ovviamente avremo più follower più interazione e quindi di conseguenza anche più business per quanto poi riguarda le conversioni reali dai social al nostro business alle nostre vendite o quello che è il nostro termine quello che intendiamo noi come conversione e quindi ecco questo è un po' gli ultimi gli ultimi tre punti gli ultimi due tre punti fare domande ai clienti per stimolare un po' l'interazione aggiungere video immagini e raccontare storie di clienti anche per far vedere innanzitutto avere dei testimonial che è sempre una cosa che diciamo incoraggia altri potenziali clienti ma anche fa vedere che riusciamo a risolvere poi problemi reali di clienti e riusciamo a fare contente delle persone e quindi chiaramente è una prova una riprova sociale una forma di rassicurazione per i nostri altri potenziali clienti gestire Facebook o Nutsuite questa parte la facciamo direttamente sulla dashboard e quindi andiamo direttamente sulla dashboard e vi faccio vedere un paio di cose velocemente tenendo presente che abbiamo già siamo già a metà della nostra della nostra mattina andiamo a vedere innanzitutto come iniziamo a lavorare con Facebook tramite Utsuite cosa abbastanza ovvia immagino che molti di voi lo sapranno ma ovviamente velocemente la ripassiamo come facciamo a collegare Facebook con Utsuite abbiamo un pulsante abbiamo un pulsante che dice collega il social collega il social con Utsuite ed è quello appunto che ci permette di andare a collegare Facebook con Utsuite andiamo quindi a dare il permesso a Facebook connettiamo con Facebook e andiamo a scegliere quali dei quali dei profili o delle pagine vogliamo gestire tramite Utsuite e qui vedete che possiamo gestire non solo i profili personali ma anche le pagine e i gruppi questa è una cosa che forse molti non sapevano ma i gruppi sono parte degli elementi che si possono gestire tramite Utsuite ecco per aggiungere un gruppo ci basta una pagina ci basta cliccare sul più e cliccare su importazione terminata perfetto ora ovviamente non lo faccio perché li ho già collegati una volta che abbiamo collegato i nostri account pagine Facebook o profili o gruppi ecco con Utsuite andiamo a scrivere il nostro messaggio e andiamo a selezionare le pagine i gruppi i profili sui quali vogliamo pubblicare quindi seleziono la mia pagina scusate il mio profilo qui sotto selezioniamo una pagina che ovviamente è una pagina ad esempio e per esempio un gruppo proprio per farvi vedere che si può pubblicare uno stesso messaggio su tre entità diverse quindi profilo pagina e gruppo chiaramente possiamo inviarlo subito o programmarlo prima però vi faccio anche vedere come si fa ad allegare un un articolo quindi un link di un articolo andiamo a vedere prendiamo l'ultimo articolo del blog di Utsuit che mi sembra sempre rilevante andiamo a copiare il nostro url quindi copiamo l'url online user experience e lo andiamo ad aggiungere nel nostro messaggio ora possiamo aggiungerlo in due modi o direttamente nella casella di testo oppure nel link all'interno del quale scusate all'interno di questa casellina più piccola dove andiamo ad accorciare il link in realtà non c'è una grandissima differenza quando pubblichiamo su facebook perché quello che ci interessa è aggiungere il link e creare l'anteprima una volta creata l'anteprima il link originario si può cancellare vedete che l'anteprima rimane questo è il modo che facebook ci chiede di usare dopo l'ultimo update del loro algoritmo quindi la modalità perfetta diciamo per facebook è quella di avere un testo di presentazione l'anteprima che diventa cliccabile a questo punto quindi chiaramente se adesso andiamo a inviare questo messaggio l'anteprima stessa diventa un'immagine vedete che posso anche cambiare il titolo la descrizione dell'anteprima appunto e volendo se ci sono più immagini sul sul sito possiamo andare a scegliere una delle miniature qui ce n'è una sola ma se no altrimenti possiamo passare da una all'altra andiamo quindi a inviare il nostro messaggio e ci portiamo su facebook e andiamo a vedere come si presenta eccoci qua questo è appunto l'articolo che abbiamo appena pubblicato vedete che abbiamo il testo di descrizione in questo caso avevo messo un hashtag quindi c'è anche l'hashtag cliccabile e poi abbiamo l'anteprima dove abbiamo la descrizione la foto come se fosse stata pubblicata direttamente da facebook la descrizione il titolo e se clicchiamo sull'anteprima ci porta direttamente alla pagina quindi questo è proprio equivalente a una pubblicazione organica torniamo su Hootsuite ecco un'altra cosa che possiamo fare se invece andiamo a programmare i messaggi in anticipo su facebook è quella di andare nel publish e vedere quali sono i messaggi che abbiamo programmato chiaramente qui li abbiamo tutti insieme se voi gestite più profili vedete che qui può diventare abbastanza fitta la situazione se gestite più profili potete eventualmente scegliere di visualizzarli uno alla volta ora non so se qui ho programmato perfetto ho dei messaggi programmati e possiamo andare a vederli sia in forma di lista ma anche come calendario settimanale e vedete la comodità è quella che io a colpo d'occhio vedo che cosa andrò a pubblicare sulla mia pagina profilo facebook e in questo caso mi rendo conto che per esempio in un giorno due messaggi e in un altro non ne ho nessuno lo trascino ed ecco che la mia pubblicazione su facebook viene in qualche modo equilibrata quindi mi faccio mi assicuro che ci sia una costanza e una certa coerenza nel numero di messaggi nella frequenza di messaggi ora questo è il mio profilo personale quindi in realtà vi suggerisco di pubblicare un pochino di più di quello che ho fatto io finora un'altra cosa che potete utilizzare per andare a pubblicare contenuto se pubblicate contenuto in inglese è usare il contenuto suggerito purtroppo questa versione essendo in beta è solo in inglese per ora quindi non avete contenuto in italiano ma in realtà ecco se il vostro pubblico è internazionale perché no ogni tanto lanciate un testo in inglese non c'è niente di male anzi raggiungete un pubblico un po' più internazionale soprattutto se appunto vendete ecco mi viene sempre in mente l'esempio tipico di prodotti tipici italiani che all'estero vanno tantissimo quindi in questo caso qualunque azienda ecco che venda prodotti apprezzati all'estero potrebbe beneficiare moltissimo dal fatto di pubblicare anche qualche contenuto in inglese e questa funzione vi permette di andare a definire tre parole chiave in questo caso appunto abbiamo aggiunto tre parole chiave andiamo a decidere quali sono i profili su cui di default andremo a pubblicare e andiamo a fare una review delle opzioni cioè dei suggerimenti questa funzione praticamente va su twitter e trova tutti i tweet interessanti relativi alle tre parole chiave che gli abbiamo dato e tre temi e quindi chiaramente poiché io gli ho dato social media qui mi parla di facebook che fa dei test altre cose relative ai social media e così via chiaramente non sono solamente tweet limitati al test ma quello che mi interessa è che condividano poi un link all'articolo all'articolo stesso quindi se io voglio andare a verificare qual è poi il link a cui sto inviando i miei follower posso andare a vedere in questo caso ecco se io fossi direttamente qui sull'articolo e non lo voglio fare tramite utsuit cosa posso fare posso utilizzare utlet che è questa estensione per chrome quindi clicco su utlet vado a selezionare qui ora io ho sempre il mio twitter selezionato ma posso andare a deselezionarlo e selezionare ad esempio il mio profilo la mia pagina e andare a dire appunto pubblicamelo direttamente dal sito web quindi senza dover copiare l'articolo tornare su utsuit eccetera su qualunque pagina web ci troviamo possiamo utilizzare utlet e andare a pubblicarlo sui nostri profili o pagine facebook insieme a tutti gli altri profili poi chiaramente qui possiamo inviarlo immediatamente o in questo caso proviamo l'autoschedule quindi sarà utsuit che sceglie il momento ideale per inviare questo articolo torniamo alla presentazione e andiamo a vedere l'ultima sezione relativa a relativa a facebook che è fare una breve analisi della concorrenza su facebook tramite appunto tramite appunto utsuit e un paio di suggerimenti utilizziamo i report soprattutto i report personalizzati perché c'è una sezione che ci permette di fare una comparazione delle pagine pubbliche in realtà fino a 100 pagine pubbliche quindi vedete che possiamo fare un'analisi della concorrenza abbastanza ampia ecco il nostro lavoro sarà quello di individuare le pagine delle aziende concorrenti e poi le possiamo inserire in questo modulo e a colpo d'occhio vedete in questo esempio in questo screenshot che ho preso proprio dal modulo possiamo vedere i like e le persone people talking about this quindi le persone che parlano di questo che hanno in qualche modo intrapreso un'azione con il mio post con la mia pagina e vado a fare un confronto immediato quindi immediatamente una rappresentazione visiva del numero dei like e delle persone che parlano della mia pagina messa a confronto con le altre pagine dei concorrenti ci basta inserire la pagina stessa in questa in questa casella che adesso quando andrete sul report la vedrete dal vivo e vi fa subito il confronto l'altra cosa che possiamo fare è utilizzare la funzione ricerca per andare a mettere il brand concorrente quindi andare a usare la funzione cerca e andare a utilizzare appunto utilizzarla in questo caso per fare ricerca sulla concorrenza andiamo a vedere rapidamente come si fa andiamo a fare inserisci colonna selezioniamo facebook e in questo caso vedete che abbiamo flusso e cerca in questo caso selezioniamo un profilo fittizio nel senso che non mi influenza la ricerca ma è solo un profilo eventualmente di risposta e qui andiamo a selezionare quello che è il competitor quindi andiamo a mettere un brand in questo caso possiamo mettere Utsuit oppure se volessi fare una ricerca per competitor potrei usare ad esempio Buffer ed ecco che qui ho una indicazione di quello che è diciamo quello che viene detto su facebook relativo al mio competitor ovvero al mio concorrente l'altro strumento che potete usare per fare un'analisi della concorrenza su facebook è Tagfida Tagfida è una delle mie app preferite da quando è stata lanciata perché mi fa fare ricerca allo stesso tempo su una moltitudine di profili di piattaforme social include facebook ma allo stesso tempo mi fa la stessa ricerca per parola chiave anche su twitter instagram google plus youtube e vimeo e quindi ovviamente include facebook ma ci dà tante altre informazioni in più chiudiamo chiudiamo questa sezione su facebook mi fermo un attimo per quanto per rispondere a un paio di domande dunque prima di tutto è possibile pubblicare post da Hootsuite su facebook senza che i miei utenti vedano che sono stati pubblicati da Hootsuite e me lo chiede Sonia Castro ottima ottima domanda questa funzionalità cioè diciamo questo link che mi dice pubblicato tramite Hootsuite appare solo agli amministratori della pagina se tu clicchi scusami se passi il mouse quando sei su facebook davanti a una pubblicazione fatta tramite Hootsuite vedrai che appare appunto pubblicato tramite Hootsuite ma se ne sarà sempre visibile Piero Vendittoli che mi chiede è possibile caricare una miniatura personalizzata proprio ieri ho avuto questa domanda e purtroppo no quindi una volta che tu carichi alleghi un link fondamentalmente ti trova le miniature disponibili le anteprime le foto disponibili sul link stesso sulla pagina puoi caricare un allegato quindi una foto come allegato e puoi caricare un link nel testo però è una cosa diversa la possibilità di cambiare la miniatura non esiste ancora quindi devi puoi scegliere solo tra le miniature personalizzate Aurora Ripamonti mi chiede possiamo taggare altre persone nel post direttamente da Hootsuite purtroppo no ancora no nel senso che stiamo lavorando per questa integrazione ma è una funzione abbastanza complessa e per il momento ci stiamo lavorando ma ancora non è disponibile Giampiero che mi chiede possiamo duplicare un messaggio dal publisher su ore diverse vado un attimo sulla dashboard perché in realtà esiste una scorciatoia nel fare questo questo almeno è come lo faccio io diciamo che abbiamo questa pubblicazione che mi interessa ripetere non esiste un copia e incolla diretto quello che faccio solitamente è cliccare sul messaggio stesso in modo un po' manuale vado a copiare il mio messaggio e poi diciamo che lo voglio pubblicare il giovedì ecco alla stessa ora clicco direttamente sul calendario vedete che in automatico mi sta già evidenziando l'ora selezionata e qui vado a fare incolla e immediatamente vado a programmarlo quindi qui non ho dovuto fare nient'altro che fare una selezione del testo cliccare sull'orario su cui voglio pubblicare nel calendario e andare a copiare il messaggio direttamente nella casella di testo quindi diciamo non è proprio il modo diretto ecco non è proprio un copia e incolla ma sicuramente è abbastanza veloce Andrea Galtieri mi fa una domanda abbastanza lunghina adesso vediamo se riusciamo a capire il punto è indispensabile che nel post scritto e condiviso con Hootsuite abbia il riferimento effettivo sul social network intendo il pubblicato con Hootsuite che compare sul contenuto pubblicato su Facebook ok mi pare che questa sia più o meno la domanda che avevamo visto prima quindi se esiste questa possibilità di eliminare la scritta pubblicato da Hootsuite sul profilo personale apparirà sempre sulla pagina invece è un'informazione che appare solo agli editor gli editori della pagina Alice Arbola mi chiede come si inserisce il modulo compare public pages andiamo subito sulla dashboard prima di tutto vai dentro statistiche qui abbiamo due sezioni uno sono i modelli ovvero i template e una è la sezione per costruirci un report personalizzato vi invito a partecipare al webinar sull'analytics di Hootsuite perché ne parliamo molto più in dettaglio ma oggi vediamo velocemente per quanto riguarda Facebook vedete che qui sulla sinistra avete tutti i moduli relativi a Facebook e qui in fondo abbiamo compare public pages è un modulo molto economico anche in termini di punti ci costa solo 5 punti da qui vedete che possiamo inserire fino a 100 pagine inserendo il loro username e niente clicchiamo su finito e in automatico ogni volta ci andrà a fare il confronto Andrea Galtieri che mi chiedeva è un vostro agreement con Facebook non so esattamente a cosa ti riferisci sì sicuramente è una cosa è una cosa che fa parte del nostro agreement con Facebook in qualche modo Daniele Mondello che mi diceva no si può fare non so cosa ti riferisci forse al fatto di cambiare la miniatura su Facebook so che si può fare ma non si può fare tramite Hootsuite però sì ecco se la domanda era si può fare su Facebook in generale si può fare in realtà quindi la mia risposta era non si può fare tramite Hootsuite è possibile caricare più foto nello stesso post scusate che intanto sta andando per errore avanti la presentazione ma ecco più foto nello stesso post è possibile per quanto riguarda i profili personali si possono pubblicare più foto per quanto riguarda le pagine purtroppo c'è un bug che è in via di risoluzione quando si pubblica un post con tre foto ad esempio purtroppo proprio a causa di questo bug quello che succede è che vengono pubblicati tre post diversi ognuno con una foto quindi state attenti è un errore è proprio un bug che stiamo cercando di risolvere ed ecco per ora funziona così l'ultima domanda poi passiamo a Google Plus è possibile cercare come keyword più competitor contemporaneamente sì ma non so che cosa potrebbe servirti nel senso che nel senso tu devi fare un'analisi dei tuoi competitor di quello che fanno quindi se stai facendo se fai una ricerca su Facebook e metti due competitor nella stessa ricerca quello che stai dicendo a Facebook è di cercare i tweet scusami è di cercare i messaggi che contengono entrambe le parole quindi ecco non ha proprio un'utilità enorme da questo punto di vista quindi così perfetto chiudiamo un attimo la sezione domande passiamo a Google Plus anche perché il nostro tempo sta terminando io sforerò di qualche minuto rispetto all'orario indicato se dovete andarvene non vi preoccupate capisco che stiamo prendendo abbastanza tempo ma se potete restare ecco ben volentieri ci attardiamo qualche minuto in più e prima di iniziare la sezione su Google Plus vi lancio un altro pool ovvero un altro questionario velocemente ovvero utilizzate già la vostra per la vostra azienda la pagina Google Plus e mi interessa capire soprattutto perché appunto c'è questa diceria che nessuno usa Google Plus ma poi in realtà quando poi si parla con le persone in tanti lo stanno usando quindi c'è chi dice sì Google Plus registra molti utenti perché chiunque ha un account Gmail viene registrato come Google Plus quindi non si sa benissimo ecco non c'è una voce non c'è una verità unica su Google Plus però sicuramente ha enormi vantaggi adesso li vedremo un po' abbiamo ancora lascio ancora qualche secondo l'80% di voi ha votato quindi pare che per ora il 70% dica di sì quindi pare che il 70% abbia effettivamente già una pagina Google Plus cosa che mi fa piacere e sicuramente renderà la parte questa sezione anche abbastanza utile chiudo il pool se volete votare avete 3 secondi di numero perfetto andiamo a chiudere il pool andiamo a condividere i risultati abbiamo il 68% di sì quindi 68% di voi ha una pagina aziendale giusto per curiosità vi dico siamo in 60 persone oggi quindi ecco fatevi i vostri calcoli circa circa 40 di voi avete 35-40 avete una pagina Google Plus e il 32% no perfetto cosa andiamo a vedere in questa sezione abbastanza rapidamente introduzione a Google Plus perché usarlo qualche consiglio e come usarlo tramite Utsuite perché appunto iniziare a usare Google Plus i dati fondamentali che ci servono è capire che ci sono c'è un miliardo di utenti registrati su Google Plus e qui ovviamente come dicevo prima non si sa benissimo se i numeri siano effettivi o meno perché chiunque ha un account Gmail ha un account Google Plus chiunque ha un account YouTube ha un account Google Plus chiunque ha un account blogger ha un account Google Plus quindi effettivamente è un ecosistema quello di Google che offre talmente tanti strumenti che non si può separare chi usa Google Plus da chi usa Gmail ecco quindi i dati sono abbastanza nebbiosi per così dire però insomma ci sono tanti utenti su Google Plus quelli attivi pare che siano circa 400 milioni anche qui abbiamo il solito dilemma della pagina o del profilo o eventualmente anche entrambi perché in questo caso quello che succede con Google Plus è che possiamo benissimo usare il nostro profilo personale anche per promuovere un pochino la nostra pagina nel senso che quando andiamo a scrivere poi un articolo su un blog per esempio sul nostro blog aziendale possiamo collegarlo con il nostro profilo Google Plus le cerchie e posizionamento e brand management le cerchie che cosa sono? fondamentalmente sono l'equivalente dei gruppi di Facebook la differenza con i gruppi di Facebook è che possiamo identificare raggruppare le persone i nostri contatti appunto per scusate ho fatto un'enorme confusione mi sto un po' confondendo con le community le cerchie sono in realtà dei modi di raggruppare appunto i nostri contatti su Google Plus quindi possiamo creare una cerchia per clienti clienti esistenti clienti potenziali colleghi amici e quant'altro quando andiamo a pubblicare quando andiamo a pubblicare un post possiamo decidere quale cerchia avrà accesso a questo post chi potrà vederlo questo perché se pubblichiamo un post per gli amici magari non vogliamo che anche gli utenti che sono nostri clienti lo vedano quello di cui mi ero confusa prima sono invece le community che sono esattamente l'equivalente dei gruppi di Facebook posizionamento e brand management sono due dei punti chiave per per convincerci a usare Google Plus tra virgolette posizionamento perché sapete che appunto in quanto Google Plus è parte dell'ecosistema Google avere una pagina Google Plus su cui condividiamo i nostri contenuti fa sì che questi contenuti vengano indicizzati prima perché ovviamente è sempre parte del loro ecosistema quindi Google è motore di ricerca Google Plus è il loro social chiaramente un articolo condiviso su Google Plus viene indicizzato molto prima brand management proprio perché andiamo a definire ancora di più quella che è la nostra presenza sui social Sonia Castro mi chiedeva se gli utenti sanno di appartenere a una cerchia specifica o lo sappiamo solo noi noi lo sappiamo solo noi quindi loro non vedono a quale cerchia li aggiungi scusa stavo perfetto stavo leggendo una domanda di Giordano di Matteo che mi diceva che non ho risposta alla sua domanda ti chiedo scusa mi era sfuggita faccio un salto indietro come faccio a inserire i post su gruppi Facebook se non posso usare un profilo personale YouTube permette la pubblicazione dei post su gruppi come pagina pubblica no purtroppo no devi sempre pubblicare come un profilo personale non c'è modo di pubblicare come se fosse una pagina pubblica scusate era una domanda che mi era sfuggita perché usare Google Plus beh innanzitutto come abbiamo detto prima brand management quindi controllo del nostro brand migliore il posizionamento del nostro sito questo un po' l'abbiamo già detto tenete presente che essendo un ecosistema che appartiene alla stessa azienda il motore di ricerca si basa molto sui feedback del suo social quindi ha senso tra virgolette razionalmente se ci pensiamo ha senso ma c'è anche un'audience diversa su Google Plus rispetto a Facebook e Twitter e quindi essere su Google Plus ci dà accesso anche a un gruppo di persone che magari non sono né su Facebook né su Twitter in realtà è abbastanza raro che una persona sia su Google Plus e non su Facebook e Twitter ma quello che voglio dire è che l'audience che è attiva su Google Plus è un audience abbastanza particolare di gente appassionata di tematiche specifiche di hobby specifici e quindi è utile avere anche accesso a quest'altro gruppo di persone è importante per le aziende locali perché ci va a posizionare su Google Map su altri strumenti lanciati da Google come l'hotel search o altre cose tipo appunto negozi eccetera eccetera ci permette di apparire anche in queste altre ricerche e poi teniamo presente che se il vostro dubbio iniziale era non posso stare su Google Plus perché non ho tempo di gestire un altro social in realtà è tardi